Ciao ragazzi e bentornati sul canale! Oggi andiamo a vedere un'altra collezione completa, l'ultima di quelle del blocco spada e scudo che finora sono riuscito a completare, ovvero Stili di Lotta. Stili di Lotta è un'espansione uscita nel 2021 e secondo me è stata anche un pochino sottovalutata, perché è piena di carte molto molto belle, però siccome è uscita a marzo proprio attaccata a Destino Splendente che era uscita a febbraio, è passata un pochettino in sordina, però comunque rimane molto interessante come collezione perché ha introdotto sia gli Stili di Lotta, ovvero il colpo singolo e il colpo rapido, sia è la prima del blocco spada e scudo che introduce le Altart. Prima di iniziare vi ricordo che potete anche passare a dare un'occhiata sui siti degli store con cui collaboro, che sono Dream Collecting e La Gilda, i pre-order di Scarlatto e Violetto per fine mese sono già aperti e che con il codice sconto Pocai Creativo 5 avete il 5% di sconto su tutti i vostri acquisti. Ma adesso torniamo al nostro Stili di Lotta. Allora, anche per Stili di Lotta è sufficiente per fare il Master Set un Ultra Pro Binder Eclipse, quindi vuol dire che conta meno di 360 carte. Se vi interessano questa tipologia di album trovate il link in descrizione. Partiamo come sempre dal tipo Erba, abbiamo Bellsprout, Wimpy Bell, Victribel, Cacnea, Cacturn, abbiamo la nostra prima V che è il Cricketun, Cherubi, Cherrim, Carnivine, artwork molto molto carino, primo Pokémon tra l'altro colpo rapido. Durant, Scatterbug, Spiupa e Vivillon, Fomantis, Lurantis, Tapu Bulu, Blipbug, Flappol V e Vimax. Questa carta del Vimax è veramente bellissima, del Flappol all'interno della mela. Peccato solo che appunto sia il Flappol sia l'Appleton abbiano la stessa forma. Sarebbe stato bello vederne magari due Vimax diverse. Abbiamo poi Entei, artwork molto potente, emana veramente potere, lo vediamo quasi su un cratere che sta per esplodere e poi lui sta raccogliendo tutta l'energia e il calore del vulcano. Victini V e Vimax, Tepig, Pigknight. Tra l'altro Pigknight, artwork molto interessante perché va direttamente a collegarsi con quello dell'Altart del Tyranitar perché qua lo vediamo in mezzo a tutti questi piatti che si è praticamente spazzolato via tutto il picnic e qua vediamo l'albero e quindi qua dietro c'è poi il Tyranitar che dorme. Lo vedremo poi quando arriveremo alla sua Altart. Abbiamo poi Ember, primo Pokémon colpo singolo, Itmor, Salandit, Salasol, Seaslipid, Sentiskorch, Orsi, Sidra e Ilkingra, Mr. Mime, Mr. Rime, Remoride e Octillery, Corpish, Croudant, Empoleon, altro protagonista di questo set, era uno dei due che era anche sulla copertina delle due team che sono uscite con all'interno stili di lotta, c'era quella di Empoleon e quella appunto di Tyranitar. Tyranitar era colpo singolo mentre Empoleon rappresenta un po' il colpo rapido in questo set e anche lui ha un'Altart molto molto bella. Abbiamo poi Frillish, Jellicent, Braxish, Electabuzz, Electivire, Shinx, Luxio e Luxray. Quindi questi li rivediamo poi tutti, tutta la linea evolutiva di Shinx in doppio artwork all'interno di Zenith Regale. Quindi ne hanno messi veramente tanti di Shinx, Luxray e anche Luxio all'interno del blocco Spade Scudo. Abbiamo poi Pachirisu, una delle mie coppie di carte preferite di questo set, il Tapu Koko V e il Vimax e poi c'è anche il Full Art che è molto molto bello. Jumper, Boltand, Slowpoke di Galar, Spoink, Grampig, Baltoi, Claydol, Chai Mecho, Espur, Mjostic, Mimikyu V, che adesso è protagonista di nuovo con la collezione di Mimikyu sotto forma di EX, Necrozma V, carta anche questa molto bella, soprattutto la sua Full Art, Dotler, Orbitol, Mankey, chiaramente colpo singolo, Primate, Onyx, Cubon, Marowak, Gligar e Glyscor. Abbiamo poi la linea diciamo un po' dei Pokémon edili, Timbur che rappresenta la costruzione in legno, Gurdur che rappresenta la costruzione in acciaio e poi Conkeldur che rappresenta la costruzione in cemento. Quindi questi sono veramente molto interessanti vedere il passaggio anche che con l'evoluzione aumenta la forza e aumenta un pochettino anche quasi la forza diciamo del materiale. Poi non è propriamente corretto perché il legno chiaramente è un pochino più debole dell'acciaio però il cemento non è totalmente più debole dell'acciaio però si può vedere anche un po' come un rafforzamento del materiale anche con cui il Pokémon si allena. Mien Fu e Mien Shao, Rolly Koli, Carcol, Colossal, quest'artwork a me piace veramente tanto. Lo vediamo un po' preso da sotto il Colossal quindi rappresentato un po' come se noi stessimo guardando in su per vederlo e poi vediamo proprio le fiamme che gli escono dalla bocca. Silicobra, Sandaconda, Phalanx, Stonejourner e poi qua abbiamo i protagonisti indiscussi del set che sono gli Urshifu, Colpo Singolo e Colpo Rapido. Questo set si ricollega direttamente all'Isola dell'Armatura e quindi il protagonista indiscusso che era rappresentato anche sugli TB è l'Urshifu. Abbiamo poi accompagnato dal Tyranitar e dall'Empolion però quello che è un po' il personaggio chiave è lui. Presente in Infinity artwork perché poi anche nella parte delle full art vedremo ce ne sono veramente tantissimi. Abbiamo poi Zubat, Golbat e Crobat, Slowbro di Galar, Markrow, Anshkrow, Aundur, Aundum che ha una delle gold più belle dell'intero blocco spada e scudo secondo me. Altro protagonista, Tyranitar, Morpeco, Stilix, Mewile, Bronzor, Bronzong, Ponyard, B-Sharp, Onege, Dooblade e Eggslash. Presente sia in forma spada sia in forma scudo. Corvinite V e V-Max, Spearow, Firo, Likitung, Likiliki, Glemiao e Paragli, Stoutland V che ritroviamo anche in Zenit Regale, Buffalant, Drampa, Indidi e qua partiamo con le trainer. Abbiamo il Super 4 Bruno per il colpo singolo. Questo dovrebbe essere le cose da campeggio. Adesso non so bene come viene tradotto in italiano. Abbiamo Demetra, Riciclatore di Energia, Fune di Fuga, Condividi Esperienza, Ventaglio delle Onde, Impegno di Ornella, se non sbaglio. Dovrebbe essere in italiano. Levelball, Esther, Super 4 della regione di Owen. Questa è una delle due pergamene, in italiano non me le ricordo come si chiamano le due pergamene introdotte in stili di lotta. Abbiamo poi Mustard colpo rapido, poi c'è la pergamena colpo singolo, Mustard colpo singolo, Brando Baldo e Scudo Baldo. Questo in italiano, il nome non lo so, scusatemi in qua, ogni tanto c'è qualche nome. È difficile ricordarseli sia in inglese, vabbè in inglese è facile perché li leggi, però ricordarsi tutte le traduzioni, soprattutto delle carte addestramento, ecco, è un pochino complesso perché ce ne sono parecchie. Abbiamo poi la torre oscura, la torre dell'acqua, Urna del vigore, Energia colpo rapido e energia colpo singolo. Queste energie speciali a me piacciono veramente tantissimo. Sono due tra le energie speciali più belle che abbiano mai fatto in tutto il blocco, chiaramente, Spada e Scudo. Passiamo alle Full Art, anche queste molto molto belle tutte. A me, diciamo, dispiace un po' che abbiano cambiato da questo stile a quello che avremo poi con Scarlatto e Violetto, perché non sono propriamente il massimo quelle nuove che hanno scelto. Qui il Pokémon emerge di più, non so se è una questione di sfondo, di posa o quant'altro, però queste Full Art, secondo me, sono molto molto più belle. Partiamo dal Cricketune, che vedo, se riesco a farvelo vedere, un pochino più grande, che è molto particolare perché Cricketune è un Pokémon legato alla musica e quindi qua come sfondo ha dei cerchi concentrici con delle note musicali. Quindi questo, secondo me, l'hanno veramente fatto benissimo. Abbiamo Flappol, molto carino. Victini, Empolion. Empolion Altart. Andiamo a dargli bene un'occhiata. Giusto per ingrandirlo un po'. Empolion, colpo rapido, che si allena insieme ad un Phalanx e insieme a un Mienfoo. Quindi, carta che a me piace tantissimo perché, come dico sempre, a me piace tantissimo le carte che includono più Pokémon, che fanno vedere un po' l'interazione che c'è tra i vari Pokémon. La Full Art di Tapu Koko, bellissima. Mimikyu V, altra Full Art stupenda, quella di Necrozma. E poi qua abbiamo il primo blocco di Urshifu. La V con la V Altart e la V con la V Altart, sia per il colpo singolo, sia per il colpo rapido. Partiamo da questa. Urshifu che si allena su delle pile di roccia. Abbastanza bella. Però quella del colpo singolo è veramente stupenda. Qua vediamo sia dai lineamenti del disegno, sia proprio dall'artwork in sé. Vedere questo Urshifu bello grintoso che tira su questo masso enorme è veramente un artwork stupendo. Abbiamo il Tyranitar. E qui abbiamo la sua Altart. Vediamo di non far entrare il riflesso sul povero Stoutland. E qua, ecco, come vi dicevo, c'è il Tyranitar che dorme. E qui abbiamo l'albero che ci fa da punto di riferimento. E abbiamo il Pig Knight qua, che è in mezzo a questi piatti, dopo che si è strafogato anche lui assieme al Tyranitar. O probabilmente lui si è strafogato di quello che è arrivato dopo, perché lo vediamo qua con una faccia un pochino non proprio allegrissima. È un po' pauroso, quasi avesse paura che il Tyranitar si sveglia. E quindi non sappiamo se hanno mangiato insieme o meno. Abbiamo poi Corviknight, Stoutland, che ha dei colori molto belli nello sfondo. Bruno, Demetra, Impegno di Ornella, Esther, Mustard in colpo rapido e colpo singolo. E poi passiamo alle Hyper. Anche qua ci sono sempre la Sfilza di Urshifu. Partiamo però dal Flappol, Victini, Tapu Koko, Urshifu Vimax, Urshifu Vimax Altart. Questa è veramente bellissima. Anche questa si ricollega alla sua V, dove nella V era tutto grintoso che sollevava questo sasso. E qua lo vediamo proprio iper pieno di muscoli. Proprio veramente emana potere come carta. Abbiamo poi il Vimax Hyper colpo rapido con la sua Altart. E questa è molto molto particolare. Sta usando sicuramente la mossa peculiare. Questo in inglese è G-Max Rapid Flow. In italiano non me la ricordo. Però è molto bello come artwork perché vediamo proprio gli Swirl d'acqua intorno alle braccia. E poi è piena di altri Pokémon. Qui abbiamo ad esempio un Globopus. Qua abbiamo tutti degli Arrokuda che volano in giro che vengono a volte inghiottiti dai Cramorant. Quindi molto molto bello come artwork. Ora andiamo a sistemare questa che stava scappando fuori. Abbiamo poi Corviknight. Vimax ovviamente. Bruno. Demetra. Impegno di Ornella. Esther. E i due Mustard. Chiudono le Gold con Octillery. Che qua si perde un pochino con lo sfondo. Però questa non è diciamo il massimo. Però questa secondo me è una delle Gold più belle. Perché a livello sia di Pokémon sia di sfondo. Hanno messo una bella posa. Hanno messo... Lo Shiny è veramente bello. Quello di Aundum. E poi fa un bellissimo contrasto con lo sfondo. Che è veramente al top. Condividi esperienza. Level ball. E ovviamente le due energie. Colpo rapido. E colpo singolo. Allora. Eccoci arrivati alla fine anche di Stili di Lotta. Fatemi sapere nei commenti se questa espansione vi è piaciuta. A me è piaciuta veramente tanto. E questa era l'ultima espansione che fino adesso sono riuscito a completare. Del blocco Spada e Scudo. Per le altre sono ancora in corso d'opera. Alcune sono messe bene. Altre sono messe meno bene. Però come obiettivo mi sono posto quello di finirle tutte entro la fine di quest'anno. Avevo l'obiettivo di finirle tutte entro il 31 di marzo. Ma a livello economico era veramente veramente difficile. E quindi ho allungato un po' i tempi. E mi sembra una cosa fattibile riuscire a completarle entro la fine del 2023. Io vi ringrazio di essere rimasti in mia compagnia anche oggi. Vi ricordo se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi. Lasciate un bel like. Seguitemi anche su Instagram. Non dimenticate di passare anche sugli store partner. Dream Collecting e la Gilda. E noi ci vediamo al prossimo video.